Tantissimi rotoli di cartigenica mettili in bocca Tutto il giro che vuoi, fagli fare tutta la seconda No, guarda, no, c'è Salve! 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 Grandi raghi, io sono veramente Pedro di quest'oggi con un nuovissimo video-vlog direttamente dalla stream house Però, prima di iniziare, mi raccomando Bomberoni, come sempre Iscrivete al canale, attivate la campanellina e soprattutto SPONITETE Detto questo, quest'oggi Come sicuramente avrete anche già letto dal titolo, squad completa Perché è arrivato il momento di fare il primissimo troll ufficiale ad Hontas Se noi ci dirigiamo e scendiamo verso la sua cameretta, che è questa qui attualmente completamente spenta e oserei dire anche piuttosto vuota, possiamo dedurre che Hontas non è in stream house Sapete questo cosa vuol dire? Fratelli Martelli, è arrivato il momento di tappettare questa stanza completamente di cartigenica E volete sapere anche in che modo? Adesso ve lo mostro Un rotolo di cartigenica Un altro rotolo di cartigenica Tantissimi rotoli di cartigenica Ebbene si muovono tutti questi rotoli Oh no, madonna, non è che ci sto sul tavolo Verranno utilizzati per ricoprire tutta la stanza e ce ne sono tanti altri Ci sono ancora dei packing stanza full immersion Però, importantissimo So che sono ricominciate le scuole Di conseguenza con essa cambieranno anche gli orari di pubblicazione dei video Perché se quest'estate pubblicavano le 12 e mezza Adesso con le inizie della scuola pubblicano verso le 13 e 13 e 30 Anzi, magari fatemi sapere anche qui sotto nei commenti qual è l'orario migliore per voi per vedere un video su youtube Detto questo, seguitemi anche sul mio profilo di instagram Importantissimo come sempre per rimanere aggiornati Ma non perdiamoci in chiacchiere Perché è arrivato il momento Plittooo! Ecco, ma cosa stai facendo? Ma fra così stai Che c'era è compromettente! Pettilo in bocca Sparò malissimo detto così Oh fra sei pronto? Sei pronto? Sei pronto eh? Sei pronto Tra l'altro ragazzi Ora vedete con questo look un po' particolare Perché è stato trollato Poi lo troverete anche il video sul suo canale Ma adesso è arrivato il momento per vindicarti Perché sta... Anche se noi non abbiamo fatto niente e mi vuole vindicare Bravo di qualcosa Oltre sicuramente guarderà questo video Pronto a avvicinarlo? Perché Tony vuoi Mi fissi in qua Io ti ho chiesto scusa ma che mi dovevo svolgare su quel fuoco E ne sarà lei Andiamo fra Ma intanto andiamo a chiamare gli altri Dopo aver reclutato sblito Saliamo per chiamare Tecnoid e Usa Prova riflessi? Prova riflessi? Oh la madonna fratello Sei pronto? Lo vuoi fare adesso? Adesso fra Alle 19.43 Hai un quarto d'ora Per me lei arriva Perché sta arrivando? Si Oh fratello corri muoviti Muoviti che è il mio fratello Devi muovere adesso Oh porco duro Usa! È il tuo momento questo Dobbiamo riempire la stanza di ontas Di cartigenica Si fa Oh ma ha detto Tec che sta arrivando Dobbiamo volare Allora Madonna che è un botto Usa Prendi questo Tec serve per attaccare sul soffitto Allora Teoricamente dovrebbe bastarci E c'è anche un rotolo anche Tec Ma che guarda 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 Oh 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 Guarda guarda La prossima volta Impari ad andartene dalla stream house capito? Questo è quello che succede quando l'hai girato a stanza libera Adesso Spizzarritemi Prendi un rotolo quello che volete Che vi intenzionate di più Allora io lo farei bello lungo Vero ontas Ontas bello lungo eh Ontas così Nooo 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 Se qualcuno capisce male Oh Vai Vai fra Dammi un pezzo Farai che non muovere qualche Oh no fra balco fra Fra balcissimo Si è piantata una botta qua Vediamo Regge Oh regge fra Mi amore Devi stare attento Ti faccio trovare i fantasmi di castro Ti faccio trovare Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aia 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 Ma che c***o che va dell'acqua qua sotto porco duro Si si Attacca cavallo Oh bello lungo deve essere eh Mi piace perché Aaaaaah Bra ma te posso? Bra ma Vabbè abbiamo già capito come finisce sta sfida Guarda guardate Ussa ragazzi Si vede che sono le challenge di Ussa Guardalo Mi porto avanti No Bisogna ottimizzare No 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 ne attacchiamo una testa così siamo tutti complici Così non si può dire io non ho fatto io non ho partecipato Capito? Oh io non c'entro niente No no Si fra quello lì è tuo Quello lì è tuo Quello è tuo No nooo Splitto Oh io farei da uno da lì a lì E quello faccio lunghissimo Uno lì che si attacca lì Lo faccio lunghissimo Bravo lunghissimo poi lo riattacchi Guarda Il più lungo Fagli fare tutto il giro che vuoi Tutto il giro che vuoi Fagli fare tutta la corba Passo la postazione Passo la postazione Vai 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 Che vuota Che vuota però vabbè un domani devo riempirsi Vai 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 Ma te prometto Eh lo attacchi nell'altro muro con un altro scotch Si però quelle più belle sono queste zio Quelle belle sono queste guardate Siamo boss Regà allora abbiamo finito il primo Dei ventimila rotoli che abbiamo di cartigenica O comunque guarda che sta rendendo eh Sembrava Vi senti quella giostra dove devi evitare lo specchio Si e usa nel mentre il giocatore di basket che le mette così Ah così lo mettete? Eh si L'importante è che regga Però che cacchio è Voglio vedere la faccia di Hontas quando entra e si trova sta roba Si trova Oh comunque tutto questo guarda guarda che Si riposa sempre quello lì Guarda che sta facendo delle delle gran riprese Guarda che sta facendo delle delle gran riprese Guarda che ti sto facendo delle riprese assurde Oh guarda che ti sto facendo delle riprese assurde Oh quando hai morto ti chi è la colpa? E' la tua No come la mia Bravo Bravo sblito Allora perchè devi sinniciare a me? Ma infatti stavo chiedendo a voi no? Eh no Perché non sei d'accordo sul nome Allora diciamo che sono entrati i ladri Perché mi so Diciamo che sono entrati i ladri Ha vinto sblito Tan 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 Hopla bravussa Bravissimo Rientra Noi staremo così Oh oh Dopo Nascondiamoci tutti qua fra No dov'è? Orizi guarda Anche quando vorrà accendere la luce avrà la cartigenica Guarda Ragazzi è sblito Eh Allora Dopo diversi minuti A riempire la stanza di ondas di cartigenica Ora voglio vedere com'è l'impressione Entrando direttamente dalla porta Vediamo Ah Ehi Ma che cazzino è Ok poi Non sono neanche tantissimi eh E' che è la prospettiva che Ma te sei lì ma non t'aveva neanche visto Guarda Come here come here Ma poi Oio 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 No no che rompi il coso Sblito stai fermo che rompi Sei un danno Ma non ho fatto niente Guarda Faccio anche così Aaaaaaah Non mi rivolgo No buono buono che Oh Mentre abbiamo bombe russa Raga ma guardate che portella Incredibile Vado a vedere un attimo se è arrivata ondas ok? Momento della verità Vediamo se è arrivata ondas con la sua macchina Anche se io oggettivamente non Ehi ma non si vede nulla raga ma non ho sentito nulla Oddio è la sua macchina? No raga è arrivata Oddio è arrivata Oddio è arrivata Oddio è arrivata Oddio è arrivata raga È arrivata Raga Raga Oddio è arrivata ondas Sta chiamando anche a me sul cellulare Poverina andiamola a prendere Che pure è sotto la pioggia Siamo fuori Oh mamma mia sta piovendo un botto Mi sa che devi fare una corsa tipo fast Ciao ondas Vai corri dentro Corri dentro È tutto aperto Corri 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 Ciao ondas bentornata Tutto posto? Allora non so se sei pronta Io direi che tanto possiamo andare verso la tua camera Giù Sì Ok Tanto la roba la scarichiamo più tardi Sì anche questo di nudi direi che Beh anche perché visto com'è la camera direi che Allora ho già fatto che la sentiamo fuori Aiuto Guarda questo Aspetta Aspetta ondas aspetta un attimo Guarda questo guarda questo guarda questo guarda questo guarda questo guarda Vieni ondas Ma che c***o Ma che c***o C'è una persona che è molto vicino a te ma non l'hai notata Guarda Ussa Ho capito Orga Ciao Tutto posto? Guarda che qua devi pulire tutto te l'ha detto eh Sì sì Non c'è Che che sta brutito? Ah boh Che sta brutito? Non so forse ero io non so Ma Ma tu una volta Non puoi anche sapere niente Cosa è successo? Esci esci Guarda la mia stanza Hm? Non è mai stata così bella Che è stato? No Che è stato? No che tiri giù tutto sblitto No però lui scusa eh Mi ci sono trovato qua neanche volevo venire Ah te la metti lè Ah Ah No 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 è di sblitto No no è di sblitto È di sblitto È di sblitto È di sblitto No no Guarda guarda che rito Guarda che rito Guarda che rito Guarda che la video camera Io sono a carriera di tutto quello che vuoi Sì Te lo giuro Sono lui che è venuto a prenderti no Ed altri mi hanno lasciato fuori Ecco Lui viene per vedere tutta la scella Di chi è la telecamera? È mia Però sto facendo il video per lui No no Ahah Ciao Bellicia Ciao Bellicia no 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 c'è via via ragazzi ci mettiamo fate questo video vi raccomando scrivetemi nei commenti ho il ritrolo mare aiuto dov'è aaaaa